... Negli studi di Abruzzo Web, il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, uscente e ricandidato alle elezioni del prossimo 25 maggio. Ben tornato tra noi. Parliamo oggi di un tema fondamentale nella politica regionale, quello della sanità. Intanto le chiediamo in maniera sintetica, diciamo oggi qual è la fotografia del debito sanitario e del servizio sanitario abruzzese, questi due aspetti. Ma basti considerare una cosa, che la sanità abruzzese nel 2007 fu commissariata dallo Stato, la Sicilia non è stata mai commissariata, la Calabria, tanto per far capire la gravità della situazione dell'Abruzzo ereditato, è stata commissariata, ma è stata commissariata dopo l'Abruzzo. La sanità campana è stata commissariata, ma sempre dopo l'Abruzzo. Quindi fa capire la situazione dell'Abruzzo qual era. Scarsissimo livello qualitativo, un front office che funzionava, macerie all'interno del back office del sistema sanitario. Tecnologie vecchie, situazioni di difficoltà nei pagamenti delle imprese, privilegi erogati a destra e a manca e questo faceva, aveva messo a repentaglio il nostro sistema sanitario. Oggi il nostro sistema sanitario aveva 2 miliardi e mezzo di debiti e pagava 8 mesi i fornitori. Oggi ne ha 533 milioni di debiti e paga 59 giorni, tempo medio, data fattura, secondo quelle che sono le relazioni del Ministero dell'Economia. La nostra sanità ha anche migliorato da un punto di vista qualitativo perché i livelli essenziali d'assistenza per i quali viene dato un punteggio dal Ministero della Salute sono passati da 120 del 2009 a 146 del 2013. Di conseguenza noi siamo una del resto delle regioni italiane che ha messo in sicurezza il sistema sanitario e quindi possiamo investire. Perciò abbiamo assunto 1.900 tra medici e infermieri. Perciò abbiamo potuto acquistare 50 milioni di euro tra nuove TAC, nuove PET, nuovi robot chirurgici, nuove risonanze magnetiche perché i cittadini devono sapere che fare un'ATAC vecchia di 20 anni fa è un'ATAC nuova. Sì, hai fatto l'ATAC, ma in realtà c'è una differenza abissale in termini di prospettive del diritto della salute. Quindi noi sotto questo punto di vista c'è una sanità senz'altro migliore. All'altra parte siamo stati premiati da Feder Sanità Nazionale per il coraggio di agire, mentre prima eravamo la regione Canaglia. La Sicilia, ripeto, non è mai stata commissariata per la sanità, noi stavamo peggio della Sicilia. Questo significa che funziona tutto? No. Significa che noi abbiamo migliorato una situazione drammatica, ma che oggi vogliamo raggiungere anche i livelli qualitativi che hanno l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia. Per far questo lo possiamo fare noi, perché abbiamo già migliorato la situazione. Il centrosinistra, quando ha avuto la possibilità di farlo, ha sfasciato la sanità. Non c'è un bravi dubbio. L'uscita dal commissariamento è possibile chiunque sia il prossimo presidente della regione? Sì, noi dal punto di vista del commissariamento fu disposto per due cose. Uno, per il desequilibrio finanziario. Facevamo deficit paurosi che portavano poi a non poter pagare i medici o gli infermieri. O meglio, per pagare i medici o gli infermieri non pagavamo i fornitori, non rinnovavamo il nostro parco tecnologico e non assumevamo nuovi medici, per quelli che andavano in pensione ovviamente. E poi fu disposto anche perché i livelli di essenza di assistenza erano bassissimi. Dicevo, quelle macerie che c'erano dietro e che hanno fatto commissare l'Abruzzo e non la Sicilia. Ecco, dicevo. Oggi queste cose sono superate. Dobbiamo arrivare a 160 punti. Noi siamo, diciamo, a 145. Potremmo arrivare a 160 già con gli hospice, con i sei hospice che abbiamo inaugurato in questo periodo di tempo. Una volta che siamo arrivati a 160, per la prima volta nella storia, questa regione sarà in grado di assicurare ai suoi cittadini i livelli essenziali di assistenza previsti da una legge del 2001. E a quel punto usciremo dal commissariamento. Una obiezione rivolta anche in questa insedi campagna elettorale è che gli interessi dei grandi gruppi privati e della sanità non sono stati minimamente toccati. È così? Ma è tutto il contrario. Sono i principali finanziatori, alcuni di loro, del mio concorrente, attraverso le televisioni e i sostenitori proprio. Così si dice, insomma. Quindi, tenga conto che noi abbiamo la sanità privata, quando l'ho ereditata, non aveva regole, non aveva controlli, non aveva budget, non aveva contratti. Oggi invece ci sono tutte queste cose. E non creda che siano piaciute a tutti queste cose. Tenga conto che oggi noi spendiamo per il sistema, diciamo, della sanità privata, spendiamo 80 milioni in meno di quanto si spendesse nel 2008. E quindi tutt'altro. Il discorso qual è? Il discorso è che tra la sanità privata e la sanità pubblica ci può essere una forte collaborazione. Ma questa si deve basare appunto su regole, condivise, su contratti, su budget, su tetti di spesa. E questo prima non accadeva. Quindi il centrosinistra sotto questo punto di vista ha una grave responsabilità. Oggi il centrosinistra sembra che sia diventato consapevole, però è sospetta questa consapevolezza, perché mi sembra che fossero consapevoli pure. Prima in Abruzzo tutti sapevano le cose che non andavano in sanità dai primari senza reparto. Unità operative complesse più dell'Emilia Romagna. 35 ospedali con alcuni che facevano 2,5 ricoveri in media al giorno con 166 dipendenti, con ricoveri inappropriati, con una casistica molto limitata. E poi anche questa polemica sulla mobilità è una polemica stantia. Vedo anche, sul rettizia per certi versi, dire delle cifre che non corrispondono al vero. La realtà, sapete qual è? Che la mobilità passiva, il saldo tra la mobilità attiva e la mobilità passiva, perché noi abbiamo più laziali che vengono in Abruzzo di quanti siano gli abruzzesi che vanno lì. E lo stesso vale per il Molise. Cioè abbiamo invece una mobilità passiva verso le marche. Questo saldo complessivo è di circa 67 milioni. A fronte di una spesa sanitaria è di 2,5 miliardi di euro. Quindi rappresenta il 2% della nostra spesa sanitaria. Quindi è un componente di costo della quale interverremo, ma tenga conto che è il 2% della nostra componente di costo. E questo è frutto anche della scarsa reputazione che aveva il nostro sistema sanitario. Perché in Italia sapevano che l'Abruzzo era stato commissariato e la Sicilia no. Quindi lei immagini se qualcuno veniva da noi. Questo naturalmente oggi lo riconquisteremo. Il trend della mobilità passiva si è interrotto, quello in aumento, comincia ad avere una curva in discesa. Nei prossimi anni la nostra sanità sarà di grande reputazione. Grazie al Presidente Chiodi. Grazie a voi. Grazie.